Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 in direzione Bologna, chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo del tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. Spostandoci sulla FIPILI per lavori stanotte in orario 22.6 resterà chiuso il tratto tra Scandici e la Strassigna in direzione Livorno. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 278.900 e 279.500 nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!